bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite la settimana sarà veramente interessante perché vedremo la patch 13.20 che sono sicuro sarà ricca di novità oggi parleremo del compleanno di fortnite vedremo dei gameplay interessanti e molto altro ancora prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi ed è una notizia che ci arriva direttamente nelle feed della lobby di fortnite forse qualcuno non aveva ancora capito bene come funzionasse il nuovo fucile a pompa non c'è da ridere perché effettivamente molti avevano ancora dei dubbi e allora ci ricordano fucile pesante a carica piena potenza tieni premuto il comando di fuoco prima di rilasciare per aumentare il danno quindi ragazzi è vero che se noi teniamo premuto il fucile da lontano il colpo arriva più lontano così si dice ma in realtà più tieni premuto e più fa danno ovviamente la difficoltà è prendere con tutti i pallini l'obiettivo a volte fa 46 a volte fa 180 non si è mai capita neanche bene questa cosa però una delucidazione ufficiale più tieni premuto e più fai male e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo un attimo fare il punto della situazione sul pack pochi che è quello ancora criptato e che sappiamo sarà un pack vi ricordo innanzitutto che sono state scoperte due skin e il backpack il backpack lo stiamo vedendo in questo momento potrebbe essere o il bloody bird come vedete nella nostra nel nostro riquadro la destra oppure land bag ora non saprei dirvi questo quale sia potrebbe essere hand bag perché mi sembra di vederci una mano sulla destra di quel backpack e il logo del del diavoletto mentre invece le skin sappiamo che saranno fnatic o meglio fanatic che potrebbe essere lei quindi quella che abbiamo appena visto di schiena o altrimenti showdown che invece è quella che vi ho fatto vedere nella parte più a destra dello schermo sappiamo che è un pack quindi questa season stanno facendo cose un po strane vedi semplicemente la renegade raider che è uscita ieri che senso aveva fare uscire una skin del genere prendendo come outfit una delle skin più rare di fortnite non ne ho assolutamente idea però business is business si dice non lo so chi lo dice lo dico io per adesso e quindi happy games probabilmente ha deciso di fare queste piccole modifiche non è escluso che arrivi più di un pack in questa season staremo ovviamente a vedere andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi è una notizia molto interessante ma anche altrettanto difficile da farvi vedere in un video perché c'è un cespuglio nel background in questo momento perché esiste un'impostazione che permette di vedere i giocatori nei cespugli allora la tecnica del bushing come la chiamano all'estero è quella ovviamente di camperazzare dentro un cespuglio ma conosco la uso sempre ma conosco benissimo la cosa la cosa abbastanza particolare è che in questa season epic games ha messo dei cespugli veramente giga in posizioni molto interessanti che a volte anche nel competitive permettono a delle intere squadre di camuffarsi dentro allora ragazzi la prima cosa che dovete fare è l'unica è togliere l'anti alizing anti alizing chiamate un po' come mi pare con questa impostazione è più facile vedere i pixel bianchi delle skin dentro i cespugli ora io vi faccio vedere un video sarà molto difficile da cellulare impossibile capirlo ma dura pochi secondi guardate cerco di fermarlo nel punto esatto qui abbiamo un giocatore che sta facendo i fatti suoi dovete tenere in considerazione quel cespuglio la frontale ragazzi adesso non so se riuscite a vederlo lui adesso si ferma l'ho visto un miliardo di volte per fermarlo bene adesso dovrebbe apparire fra mezzo millisecondo un puntino bianco sopra il mirino erca non so se l'hai visto è apparso per un millisecondo un puntino bianco quel puntino bianco è la testa dell'avversario guarda cosa succede po morto provo a rifarvelo vedere è veramente difficilissimo ragazzi da da capirlo dovete avere un occhio assurdo vediamo se riusciamo a vederlo eccolo il puntino bianco che apparso in quel millesimo di secondo ragazzi potrebbe risolvervi un sacco di situazioni che potrebbero diventare scomode e problematiche durante le vostre partite quindi provate a disattivare l'anti alasing e tenete sotto controllo quando non sapete dove sono gli avversari i cespugli se vedete dei puntini bianchi quella è la testa da colpire e andiamo avanti a parlare del prossimo credo anche l'ultimo argomento di oggi sì perché il compleanno è il penultimo perché il compleanno di fortnite in arrivo è il 25 luglio e ragazzi sarà già il terzo compleanno di fortnite il tempo vola incredibile tre anni a questi regimi a questi ritmi con questo videogame una cosa davvero al di là delle aspettative noi abbiamo visto innanzitutto i regali che ci sono stati nei precedenti anni il primo anno ci regalarono il backpack con la torta di compleanno il secondo anno invece arrivò il piccone con la fetta di torta e insieme a questi due oggetti molto molto carini sono arrivate tante altre piccole cose quindi i due adesivi e uno spray l'adesivo è della cupcake con il numero uno e lo spray fanno parte del primo compleanno il cupcake numero due ovviamente al secondo la vera domanda è che cosa arriverà quest'anno come regalo innanzitutto è molto probabile che la patch verrà rilasciata il 22 luglio quindi avremo solamente da quel giorno molto probabilmente in mente quello che dovremmo aspettarci nelle possibili challenge del compleanno di solito si va in giro a cercare le fette di torta ma si fanno anche altre cose secondo me o quest'anno prendiamo un deltaplano o prendiamo una skin io sono più propenso al deltaplano secondo me ci vogliono far fare un set proprio da compleanno con i regali staremo ovviamente a vedere comunque è sempre un ringraziamento ad epi games che ci fa dei regali senza chiedere nulla in cambio nel giorno del compleanno e arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi è un concept che sta veramente infuocando le pagine di reddit guardate che meraviglia una ltm che è basata sulla vecchia mappa molto più ridotta quindi c'è il vulcano c'è il villaggio dei vichinghi c'è tilted c'è pinnacoli ragazzi c'è corso commercio e shift shaft che dovrebbe essere rapide rischiose ora non me lo ricordo con con chiarezza una minimappa con del loot davvero interessante pompa normale pompa del nonno mitraglietta pistole ma tornerebbe anche la chug il lanciagranate le boogie bomb e stavo dicendo che non è la prima volta che epi games prende spunto per i suoi contenuti in game dei messaggi che hanno più riscontro nella community di reddit l'abbiamo visto per tante skin lo stiamo vedendo anche per altre cose ad esempio degli spray delle schermate di caricamento ci auguriamo che questo post magari possa veramente stuzzicare l'inventiva e la fantasia di tutti i collaboratori di epic e che magari tornerà in una ltm insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao cinquà cinquà cinquanta secondi mancavano i dieci minuti molti diranno se moni gabber ma non me ne frega non me ne frega non posso dire quella parola se non viene monetizzato non posso dire altrimenti viene monetizzato se dici tua mamma viene monetizzato e allora io me la canto fino ai dieci ne mancano ancora dieci di secondi adesso invece ne mancano tre e allora sai che ti dico ciao eh